Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi, invece, deridevano Gesù dicendo, Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio l'ha letto. Anche i soldati lo deridevano, li si accostavano per porgeri dell'aceto e dicevano, Se tu, sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta, Costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appese alla croce, lo insultava, Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro, invece, lo rimproverava dicendo, Non hai alcun timore di Dio? Tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli, invece, non ha fatto nulla di male. E disse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, In verità, io ti dico, Oggi con me sarai nel paradiso. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco La solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, Corona l'anno liturgico. Il Vangelo presenta, infatti, La regalità di Gesù al culmine della sua opera di salvezza, E lo fa in un modo sorprendente. Il Cristo di Dio, L'eletto, Il Re, Appare senza potere e senza gloria. È sulla croce, Dove sembra più un vinto che un vincitore. La sua regalità è paradossale. Il suo trono è la croce. La sua corona è di spine. Non ha uno scettro, Ma gli viene posta una canna in mano. Non porta abiti sontuosi, Ma è privato della tunica. Non ha anelli luccicanti alle dita, Ma le mani trafitte dai chiodi. Non possiede un tesoro, Ma viene venduto per trenta monete. Davvero, Il regno di Gesù non è di questo mondo, Ma proprio in esso, Ci dice l'Apostolo Paolo, Nella seconda lettura, Troviamo la redenzione e il perdono. Perché la grandezza del suo regno, Non è la potenza secondo il mondo, Ma l'amore di Dio, Un amore capace di raggiungere e risanare ogni cosa. Per questo amore, Cristo si è abbassato fino a noi, Ha abitato la nostra miseria umana, Ha provato la nostra condizione più infima. L'ingiustizia, Il tradimento, L'abbandono, Ha sperimentato la morte, Il sepolcro, Gli inferi. In questo modo, Il nostro re, Si è spinto fino ai confini dell'universo, Per abbracciare e salvare ogni vivente. Non ci ha condannati, Non ci ha nemmeno conquistati, Non ha mai violato la nostra libertà, Ma si è fatto strada, Con l'amore umile, Che tutto scusa, Tutto spera, Tutto sopporta. Solo questo amore ha vinto, E continua a vincere, I nostri grandi avversari. Il peccato, La morte, La paura. Oggi, Cari fratelli e sorelle, Proclamiamo, Questa singolare vittoria, Con la quale, Gesù, È divenuto, Il re dei secoli, Il signore della storia, Con la sola, Onnipotenza dell'amore, Che è la natura di Dio, La sua stessa vita, E che, Non avrà, Mai fine. Con gioia, Condividiamo, La bellezza di avere, Come nostro re Gesù, La sua signoria di amore, Trasforma il peccato in grazia, La morte in resurrezione, La paura in fiducia. Sarebbe, però, Poca cosa, Credere che Gesù, È il re dell'universo, È centro della storia, Senza farlo diventare, Signore della nostra vita. Tutto ciò, È vano, Se non lo accogliamo, Personalmente, E se non accogliamo, Anche il suo modo di regnare, Ci aiutano in questo, I personaggi, Che il Vangelo odierno presenta, Oltre a Gesù, Compaiono tre figure, Il popolo che guarda, Il gruppo che sta nei pressi della croce, E un malfattore crocifisso, Accanto a Gesù. Anzitutto il popolo, Il Vangelo, Dice che, Stava a vedere, Nessuno dice una parola, Nessuno si avvicina, Il popolo sta lontano, A guardare che cosa succede, È lo stesso popolo, Che per le proprie necessità, Si accalcava attorno a Gesù, Ed ora, Tiene le distanze, Di fronte, Alle circostanze della vita, O alle nostre, Attese non realizzate, Anche noi, Possiamo avere la tentazione, Di prendere le distanze, Dalla regalità di Gesù, Di non accettare, Fino in fondo, Lo scandalo del suo amore umile, Che inquieta, Il nostro io, Che scomoda, Si preferisce, Rimanere alla finestra, Stare a parte, Piuttosto che, Avvicinarsi, E farsi prossimi, Ma il popolo santo, Che a Gesù come re, È chiamato, A seguire la sua via, Di amore concreto, A domandarsi, Ciascuno ogni giorno, Che cosa mi chiede l'amore, Dove mi spinge, Che risposta do a Gesù, Con la mia vita, C'è un secondo gruppo, Che comprende, Diversi personaggi, I capi del popolo, I soldati, E omo al fattore, Tutti costoro, Deridono Gesù, Gli rivolgono, La stessa provocazione, Salvi se stesso, È una tentazione, Peggiore di quella del popolo, Qui tentano Gesù, Come fece il diavolo, All'inizio del Vangelo, Perché rinuncia a regnare, Alla maniera di Dio, Ma lo faccia secondo, La logica del mondo, Scenda dalla croce, E sconfigga i nemici, Se Dio, Dimostri potenza e superiorità, Questa tentazione, È un attacco diretto all'amore, Salva te stesso, Non gli altri, Ma te stesso, Prevalga l'io, Con la sua forza, Con la sua gloria, Con il suo successo, È la tentazione più terribile, La prima, E l'ultima del Vangelo, Ma di fronte, A questo attacco, Al proprio, Modo di essere, Gesù non parla, Non reagisce, Non si difende, Non prova a convincere, Non fa, Un'apologetica, Della sua regalità, Continua piuttosto, Ad amare, Perdona, Vive il momento della prova, Secondo la volontà del padre, Certo che, L'amore, Porterà frutto, Per accogliere, La regalità di Gesù, Siamo chiamati, A lottare, Contro questa tentazione, A fissare, Lo sguardo sul crocifisso, Per diventargli, Sempre più fedeli, Nel Vangelo, Compare, Un altro personaggio, Più vicino a Gesù, Il malfattore, Che lo prega, Dicendo, Gesù, Ricordati, Di me, Quando, Entrerà nel tuo regno, Questa persona, Semplicemente, Guardando Gesù, Ha creduto nel suo regno, E non si è chiuso, In se stesso, Ma con i suoi sbagli, I suoi peccati, E i suoi guai, Si è rivolto a Gesù, Ha chiesto, Di essere ricordato, E ha approvato, La misericordia di Dio, Oggi con me, Sarai nel paradiso, Dio, Appena, Gli ne diamo la possibilità, Si ricorda di noi, Egli, E' pronto, A cancellare, Completamente, E per sempre, Il peccato, Perché, La sua memoria, Non registra, Il malefatto, E non tiene, Sempre conto, Dei torti subiti, Come la nostra, Dio, Non ha memoria del peccato, Ma di noi, Di ciascuno di noi, Suoi figli amati, E crede, Che è sempre possibile, Ricominciare, Rialzarsi, Chiediamo, Anche noi, Il dono, Di questa, Memoria aperta, E viva, Che diamo, La grazia, Di non, Chiudere mai, Le porte, Della riconciliazione, Del perdono, Ma, Di saper, Andare, Oltre il male, Le divergenze, Aprendo, Ogni possibile, Via di speranza, Come Dio, Crede, In noi stessi, Infinitamente, Al di là, Dei nostri meriti, Così, Anche noi, Siamo, Chiamati, A infondere speranza, E a dare opportunità, Agli altri,